la leader di fdi inviato al premier incaricato le nostre proposte scoprirà la nostra lealtà oggi ho mandato al presidente incaricato una serie di documenti in vista del nostro incontro di domani come mi ero impegnata a fare durante il nostro precedente incontro con le principali proposte di fratelli d'italia per esempio in materia di sostegno al nostro tessuto produttivo di lotta all'immigrazione incontrollata sul recovery plan e come lo vorremmo integrare su alcune cose strane che sono accadute sulla gestione commissariale di arcuri su alcuni dei principali dossier aperti credo che alla fine mario draghi potrebbe scoprire che c'è un partito di opposizione che a cuore il destino dell'italia e che potrebbe rilevarsi a tratti più leale di alcuni partiti della maggioranza non fosse altro perché noi proviamo a dare una mano senza chiedere in campo di fare i ministri così giorgia meloni presidente di fratelli d'italia in un'intervista a quarta repubblica sulla scelta di non supportare l'eventuale governo draghi meloni ha ribadito non intendo polemizzare con gli alleati e non lo farò rispetto le scelte degli alleati anche se non le condivido chiedo lo stesso rispetto per la scelta di fratelli d'italia come sono convinta della mia scelta quindi non ho bisogno di giudicare le scelte degli altri confido che gli altri siano convinti delle loro scelte e quindi non abbiano bisogno di giudicare la mia e ancora se salvini diventasse ministro in questo contesto potrei essere contenta però temo che se salvini diventasse ministro questo significherebbe che avremmo ministri anche zingaretti di maio speranza e lo scenario diventa un po più fosco a 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